L'ottimismo c'è, l'entusiasmo e la voglia di ricominciare anche, ma le perplessità sul come hanno contribuito a rallentare la ripresa delle attività anche in Versilia. I lavori di allestimento delle spiagge sono iniziati, gli stabilimenti balneari hanno avuto il via libera per piazzare tende, ombrelloni e sdraio. Resta l'interrogativo su quanti ritorneranno a frequentare la riviera toscana nei prossimi mesi estivi. La nostra zona, Forte dei Marmi e Malaversilia in genere, hanno circa il 48% di presenze straniere durante l'arco della stagione. Quindi è evidente che molta di quella gente non la vedremo, sarà una stagione con una netta prevalenza di turisti italiani. Noi intanto ripartiamo con quelle che sono le seconde case, quindi anche a livello regionale. Già se venissero a Forte dei Marmi, Fiorentini, Pistoiesi, Pratesi e giù di lì, il nostro paese lo riempiamo. Abbiamo moltissime seconde case. Dopo un estenuante tira in molla fatto di attese, di decreti e di ordinanze regionali, gran parte delle attività turistico-commerciali ha riaperto i battenti. La maggioranza degli stabilimenti balneari sarà aperta per il ponte del 2 di giugno. Tra le notizie accolte favorevolmente c'è quella della possibilità dell'apertura anche delle piscine. Le nuove regole prevedono 10 metri quadrati per ogni zona d'ombra, ma il problema potrebbe essere il distanziamento tra i lettini a riva. Un metro e mezzo tra l'uno e l'altro, dunque se ne perderanno molti, ma la Versilia potrebbe salvarsi perché gli spazi sono generosi. Per Forte dei Malmi il distanziamento non è un problema. Noi abbiamo una spiaggia estremamente lunga di circa 100 metri e anche se dovremmo mettere il 10% in meno, 15% in meno di ombrelloni, noi abbiamo sempre garantito un distanziamento talmente ampio che delle eventuali linee anche 5x4, l'ipotesi, non ci mettono certamente in difficoltà.